Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio Ci ritroviamo su Dissidia Final Fantasy Opera Omnia versione giapponese Perché oggi è uscita lei Ebbene si, Cloud of Darkness è presente all'interno del gioco Grazie all'uscita del nuovo capitolo Ed è arrivata insieme ad un altro dei miei personaggi diciamo preferiti Sempre tra virgolette Ovvero Kefka Kefka riceve la sua EX Plus insieme ovviamente a Cloud of Darkness Avendo anche l'enouncement board a disposizione per entrambi i personaggi Oggi che cosa facciamo? Ovviamente un piccolo video pool Come potete vedere ho qualche risorsa Dato appunto le ricompense del video stream Della Square Enix dove appunto annunciavano i contenuti Per quanto riguarda il JP La Hope Hope Mission E quindi abbiamo ricevuto al solito il pacchetto con 6000 gem, 20 ticket, armor token e power stone Come sempre lo stesso pacchetto C'è da dire però che io non ve l'ho fatto vedere ma ho tirato i ticket ieri sera Ed è successa una delle cose più assurde che mi sia successa In realtà è capitato altre volte ma non pensavo di riuscirci ancora una volta Ovvero ho trovato la EX di Alphinaud Avevo detto che non avrei pullato su di lui Ma questi ultimi 20 ticket che ci avevano dato ieri sera Ho deciso di pullarli Ho deciso di pullarli Volevo tentare un'ultima volta E ci sono riuscito L'ho fatto subitissimo Viola Alphinaud è davvero un ottimo attaccante magico Tantissime sono le sue potenzialità per quanto riguarda anche la Brave Battery per il team Quindi veramente un ottimo personaggio Lo desideravo a dire la verità Perché mi era rimasto praticamente qui sul pomo da damo Il fatto di non aver trovato la sua EX Invece fortunatamente adesso ce l'abbiamo Sono molto molto soddisfatto e molto contento Ma ritorniamo adesso all'argomento principale L'argomento principale è l'uscita ovviamente del nuovo capitolo Ma soprattutto l'uscita di questa waifu Così come viene definita da molti Ovvero Cloud of Darkness Cloud of Darkness che come potete vedere al momento da me è nuda In tutti i sensi Non ha praticamente un equipaggiamento Ma adesso cercheremo appunto di farglielo Ho intenzione di burlare su questo personaggio perché non solo mi piace Ma perché comunque ha un moveset davvero particolare e davvero interessante Sembra quasi un'Artemisia 2.0 Se così potessimo definirla Ovviamente Artemisia ha già la sua EX Plus È uscita parecchio tempo fa e ancora dice la sua Mentre invece Cloud of Darkness è uscita adesso Ma con il moveset e con le skill che ha Potrebbe effettivamente farsi valere Possiede la metodologia di counter Quando subisce un HP attack Particolarità del suo stack di Darkness Che le permette di usufruire di una free skill Praticamente Azzerando ovviamente i suoi counter darkness Che al tempo stesso aumentano il suo attacco e la sua max bravery Quindi diciamo che è un personaggio che funziona a stacks Come tanti altri presenti all'interno del gioco Però lei comunque ha quel fascino Guardatela Ha veramente Come fate a non pullare per lei Come fate a non desiderarla Cioè mi sembra Mi sembra veramente superfluo aggiungere altro Nel frattempo per quanto riguarda invece la versione global È stato introdotto Ramu Come ben sapete Ultimate Ramu Ieri ho fatto uscire il video dove vi spiegavo O comunque vi davo dei suggerimenti Per poterlo farmare al meglio Quindi buona fortuna a tutti quelli che stanno farmando In questo momento Ramu Però io nel frattempo oggi vado da lei Vado da lei, da Cloud of Darkness Perché non vedo l'ora Non solo di pullare Perché pullare è sempre bello in questi giochi Ma al tempo stesso non vedo l'ora di vedere Cosa riusciamo a combinare Ho i tickets Ho 24 tickets Che sarebbero praticamente tutti quelli delle board di Cloud of Darkness Li ho presi in un attimo Veramente Proprio manco Manco 10 Anzi Manco 15 minuti La durata di un libro E già praticamente Hai la possibilità di poter ottenere Almeno tutte le ricompense Abbiamo anche 20.300 gemme Non so quante ne voglio pullare A dire la verità Volevo pullarne 10-15k Però probabilmente andrei a cifra tonda Con 20k E poi E poi basta E poi tutto quello che inizierò a risparmiare all'inizio di questo mese Sarà solo ed esclusivamente per Trey Qualora ce ne fosse l'occasione Perché è un personaggio con arco Io con arco ho soltanto Lenna E nell'eventualità di Heretic Cosmos Dove bisogna utilizzare le armi Io sarei in un grandissimo guaio Spero che Trey possa valerne la pena Di essere pullato In modo tale da poter prendere due piccioni con una fava Comunque Cominciamo 24 ticket Vediamo un po' Quello Che si può ottenere Ovviamente A trovare la ex di Cloud of Darkness Sarebbe Sarebbe tanta roba Spero di non trovare Ovviamente i doppioni di Kefka Visto che comunque Già lo possiedo completo Completamente maxato Quindi L'aspettativa sarebbe trovare Il Cloud of Darkness Anche perché Come stavamo Riflettendo E parlando All'interno del Discord È un personaggio Che comunque fa parte del capitolo E i personaggi capitolo Comunque tornano Ogni volta Dopo Tanto Tanto tempo All'interno del gioco Quindi è normale Magari Tentare Ecco Di pullare Qualcosina per loro Questa dovrebbe essere la 15 Se non erro Esatto Quindi già Seconda copia della 15 Non male Non male Così già Inizio a risparmiare Anche qualcosina Per quanto riguarda Le Power Stone Che assolutamente Non fa mai male E quindi Stavamo parlando Del fatto Avevo detto Di non voler doppioni Di Kefka E giustamente Mi esce la sua ex Perché è normale Che sia così Giusto gioco È normalissimo Io già ho la ex Di Kefka E quindi Il gioco Mi dà la ex Di Kefka È tutto Tutto regolare È tutto Tutto regolare Comunque Doppione di Kefka Io già lo sapevo Che andava a finire così Però va bene Stavo parlando Stavo dicendo Che la questione principale È il fatto Di Cloud of Darkness Essere un personaggio capitolo I personaggi capitolo Ovviamente Hanno Una peculiarità Rispetto agli altri Ovvero Quella Che È difficile Vederli Come sinergici In Determinati eventi In quanto Appunto Loro si ripresentano Chissà dopo quanto tempo Quindi magari Trovare subito L'arma IEX Per evitare Comunque Di pullare in futuro O di pullare In generale Quando magari Uscirà un evento Dove Non abbiamo Nessun interesse Penso sia Anche Una soluzione Per cui Trovare l'arma IEX Adesso Nel banner Diciamo Iniziale Quindi nel banner Quello Dove viene Rilasciata l'arma Potrebbe essere Una strategia Per risparmiare In futuro Effettivamente Non è un ragionamento Tanto contorto Né tanto complesso Perché Ripeto Il fatto di trovare Subito L'arma IEX È un vantaggio Che magari Puoi sfruttare subito E puoi sfruttare dopo E ci sono tanti banner Che sono riuscito A schippare Grazie A Grazie appunto Al fatto di avere Già i personaggi Pullati precedentemente E quindi Non dover Necessariamente Spendere risorse Su altri banner La cosa Che Giustamente Preoccupa Ovviamente Avendo finito i ticket Senza trovare niente La cosa che preoccupa È il fatto Di Risparmiare Per tutto ciò Che uscirà In futuro Ci sono tantissime notizie Che stanno iniziando A travelare All'interno Delle community All'interno Dei vari discord Foto Screenshot Diciture Si parla Addirittura Già di una sorta Di limit burst Ma Per il momento Io non dico nulla Perché non è giusto Parlare E dire Cose Quando Non sono sicure Quindi Da me Non avrete Assolutamente Questo genere Di fake news O comunque news Non attendibili In quanto Non c'è nulla Di concreto Nulla di sicuro Però C'è il forte sospetto Che il gioco Inizierà Comunque A progredire Verso un altro livello Partiamo subito Dal presupposto Che già I I break E Soprattutto Per quanto riguarderà La max bravery Andrà Senza ombra di dubbio A oltrepassare Il 99.999 Quindi Riusciremo Ad andare Oltre Perché già I numeri Del bravery Sono stati Rimpiccioliti Come font Per permettere L'inserimento Di un'altra cifra Abbiamo Degli attacchi Che stanno iniziando Ad essere Veramente Veramente Distruttivi A partire da Kiss Adesso anche Cloud of Darkness Possiede comunque Degli attacchi Decisamente potenti E quindi Piano piano Stiamo andando Appunto Verso quello Che è Un nuovo mondo Un nuovo cap Comunque Finiti i ticket Io direi Di andare Giù di gemme Vediamo Vediamo come vanno Queste gemme Probabilmente Le utilizzerò Tutte E poi Quelle che inizierò Ad accumulare Dai Lost chapter Dal capitolo Che ancora Devo completarlo Tutto in hard Saranno comunque Risorse Che andrò A risparmiare Per fine mese E chissà Magari In futuro Nel frattempo Non sto contando Bene Un off banner Questa dovrebbe essere La spada di Oddio Cioè La spada di Leon Perché Un off banner Così Proprio Orribile Come prima multi Attenzione Attenzione Ho visto Dei connecting Che però Potrebbero essere Anche la 35 Di cloud of darkness Quindi Eh Siamo lì Siamo lì Ripeto Io dei connecting Ormai mi fido poco Perché Ho avuto tante delusioni In questo periodo Con i vari connecting Però Esatto La 35 E la X 35 E la X Dall'unica Multi Mamma mia Perfetto Perfetto ragazzi Perfetto In due multi Ce ne usciamo Ottengo tutto quello Che mi serve La 15 Ce l'abbiamo La 35 L'abbiamo ottenuta E la X Eccola qua Perfetto Banner Completamente Chiuso Il connecting Questa volta Non mi ha deluso 10.000 gemme Che mi tengo Strette Ma strettissime In maniera Assurda Non avete neanche idea Di come me le tengo Strette Queste Queste 10.000 gemme E continuerò a formare Per Ovviamente Il Il Continuo Di questo mese Ovviamente Non vedrete Altri video pool Per quanto riguarda Questo mese Abbiamo letteralmente Concluso Dato che non ci sono Personaggi che mi interessano O per meglio dire Ho già tutti I personaggi Di questo mese Charlotte La posseggo La possiedo Anzi Poi Leon La possiedo Cioè L'unica potrebbe essere Afmau Però Probabilmente La schippo Garnet La possiedo La possiedo Già Quindi Non ho Problemi Per quanto riguarda Anche il Sinergico Della summon E del personaggio Sinergico Di questo mese Quindi Sono abbastanza Tranquillo Non ho Agitazione L'unica L'unico desiderio L'unico capriccio Che volevo togliermi Era Cloud of Darkness E ce l'abbiamo E ce l'abbiamo Fatta Quindi Veramente Veramente Soddisfatto Io A questo punto Ho terminato Qui Vi ringrazio Per aver visto Il video Ci vedremo In live Su Twitch Per farmare Gli artefatti E per farmarle Anche Le masteri Poi Ci sposteremo Magari anche Sul global Per farmare Ramù Inizieremo anche Il farming Sul Ramù Però per il momento Va bene così Io vi ringrazio Al solito Per essere stati con me E ci becchiamo Alla prossima